E' tempo di grandi personaggi in questo WPT tergato gioco digitale. E' arrivato infatti oggi e sarà finalmente in scena anche uno dei più grandi campioni del mondo. Oltre 20 milioni di dollari vinti in carriera. Stiamo parlando ovviamente di Sam Tricket. Sì, è stato buono divertimento. E' quello che si tratta, solo avere un po' di divertimento. E' ancora un po' di freddo, ho bobbato. Sì, perché ho confettato e mi piace sempre venire. Ma no, ovviamente, è stato solo un po' di divertimento. Sì, è stato un po' di prima volta. E' stato molto impressionato così far. Ho portato a mia madre, mia mamma e mia nana. Quindi, è stato fantastico. Il rinno sul suolo è stato molto impressionante. All'I hear is just verbal masturbation. That room is, I'm really, I love that room. Yeah, I love the club anyway. It's my favorite place to play poker. And now they've got the room name left to me. It's actually really nice as well. The service is really good. I've actually been winning in the games there. So it's like, yep, everything's good. Brilliant. I've just signed a new deal now. So now the goal is to try and get some titles. You know, like a WPT title, EPT, or even a bracelet. Yeah, and just try and get some more results. You know, it'd be nice to get a bracelet because I've had so many close finishes, but I'm sure I'll get there in the end. You know, like a WPT title, EPT 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 title